Associazioni e cittadini in difesa della riserva naturale del Borsacchio. Ieri d'oggi, domenica 7 gennaio, a Rosetto degli Abruzzi avviate una raccolta di firme per una petizione che chiede l'immediato ripristino del perimetro originario e l'attuazione dell'area protetta. Le associazioni ambientaliste sono scese in piazza per contrastare la cancellazione della riserva regionale del Borsacchio, decisa alle 2.30 della notte del 29 dicembre scorso attraverso un emendamento alla legge di bilancio votato da tutta la maggioranza di centrodestra che sostiene la giunta Marsilio. Ai microfoni del Tg8 interviene il capogruppo regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, tra i promotori dell'emendamento il quale difende le scelte fatte dalla regione Abruzzo. È chiaro che a noi interessava ripristinare un atto di legittimità. Quella riserva nasce con una trentina di ettari. Qualcuno durante la notte lo ha portato a 1.100 ettari. Non si capisce perché quando lo fa qualcuno di notte va bene, e quando lo fa qualcun altro non va bene. Quando si è in consiglio regionale si lavora sempre. Noi abbiamo lavorato da mesi su questa decisione, comportata anche dai tecnici. La riserva era quella. Va legittimato, riconosciuto, il controllo sul litorale perché in effetti c'è il fratino. Ci potrebbe, speriamo, ci tornino anche le tartarughe. Per il resto si vedrà. Intanto ripristiniamo la legalità. Diamo la possibilità ai centinaia di agricoltori e di altre attività economiche di poter lavorare. Per 18 anni sono stati penalizzati. Va ricordato che alcuni agricoltori sono stati penalizzati con multe da 3.000 a 15.000 euro solo per aver potato gli alberi di olivo. Quindi credo che qualcosa vada rivisto. I cittadini che stanno sottoscrivendo la petizione chiedono alla regione Abruzzo di abrogare l'emendamento approvato e di rilanciare la riserva naturale del Borsacchio investendo energie e risorse su proposte concrete anche di sviluppo economico che siano in grado di coniugare le reali esigenze del territorio e la salvaguardia ambientale. Siamo disponibili a trattare su piccoli tratti a macchia di leopardo come si dice assolutamente sì ma bloccare 1.100 ettari quando la riserva nasceva a Cotrenda ci è sembrata un'esagerazione quindi sul resto siamo disponibili a vedere di risolvere le varie problematiche. Sull'opportunità politica di adottare tale provvedimento il capogruppo regionale di Forza Italia Febbo ha aggiunto che Guardi io ho già ci sono passato con il parco della costa di Latina oggi non ne parla più nessuno visto quello che è successo sulla pista della costa di Latina con il successo che ha avuto a livello turistico se c'era il parco quella pista e quel successo economico che sta avendo quel tratto, quel litorale non ci sarebbe stato anche lì è lo stesso ragionamento abbiamo deciso di farlo dopo che si è studiato si sono capite le ragioni e si è fatto in un momento qualcuno dice inopportuno perché? Perché si vota ci siamo assunti questo rischio sapendo che c'è una regione che è del fare e la regione del fare sta portando i risultati economici di alto livello non si capisce perché in quel territorio questi risultati non possono essere portati soprattutto nel sistema rurale che è un sistema rurale abruzzese di eccellenza abbiamo dei vini, degli oli, dei prodotti di altissima qualità perché non poterli portare su quel territorio perché su quel territorio non si può fare agriturismo oggi gli agriturismi in Abruzzo stanno esplodendo come numero e soprattutto come fruitori non capiamo perché in quel territorio non si poteva fare